Il Corecom Toscana ha illustrato il bilancio di un anno di attività. Consegnati gli attestati di partecipazione al progetto Woman on Board, nato per favorire l'accesso delle donne nei consigli di amministrazione di imprese pubbliche e private attraverso un percorso formativo. A Palazzo del Pegaso presentato è il volume Digital Sapiens di Nicola Lattanzi e Andrea Vestrucci, dedicato all'intelligenza artificiale. Il bilancio dell'attività del Corecom Dal Corecom Tour, che ha permesso di far conoscere le funzioni del Comitato regionale nelle province toscane, alla risoluzione delle controversie che ha consentito di restituire oltre 800.000 euro a cittadini e imprese della Toscana, dal patentino digitale delle scuole, diventato una best practice a livello nazionale, alla vigilanza sulla par condicio. Sono diverse e significative le azioni portate avanti nel mondo delle telecomunicazioni e nel sistema dei media locali dal Corecom della Toscana, a un anno dall'insediamento del nuovo comitato, di cui è presidente Marco Meacci, avvenuto il 29 giugno 2023. Il primo bilancio dell'attività è stato illustrato nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Il Corecom è un po' un fiore all'occhiello delle nostre attività istituzionali e voglio davvero ringraziare tutti perché l'obiettivo che noi ci diamo è fare in modo che ogni singolo cittadino, da chi vive nel comune più grande a chi vive nel borgo più piccolo, possa avere accesso agli stessi diritti e credo insomma il lavoro del Corecom in questi anni si stia andando esattamente in questa direzione. Penso al patentino digitale, penso anche a tutte le iniziative con cui si sostengono progetti legati alla comunicazione sociale. La comunicazione sociale svolge una funzione importante e dà anche un segno di quella della strada che noi vogliamo portare avanti. E poi anche tutta la questione ordinaria legata ai contenziosi non è poco, svolge una funzione fondamentale, quindi grazie. Il presidente Meacci ha ricordato come la prima sfida sia stata quella di far conoscere il Corecom in tutta la Toscana. A tale scopo è stato inaugurato nell'ottobre 2023 il Corecom Tour, un viaggio nelle dieci province toscane in collaborazione con l'UPI che ha permesso di venire in contatto con operatori della comunicazione, istituzioni, scuole, associazioni e imprese. Poi abbiamo fatto vari momenti formativi in vista della Parcondicio con l'ordine dei giornalisti, abbiamo messo in piedi quattro iniziative in tutte le aree più importanti della Toscana di formazione per la Parcondicio che chiaramente è stato uno degli impegni maggiori degli ultimi due mesi della campagna elettorale e il Corecom ha svolto una funzione di vigilanza, di controllo per garantire il pluralismo e l'equilibrio e in particolar modo anche per quanto riguarda la comunicazione istituzionale. In gran parte poi ci sono stati adeguamenti spontanei da parte delle varie amministrazioni per cui un rapporto molto di collaborazione e di interazione. Poi abbiamo messo in piedi varie iniziative, vari bandi che continueremo e poi diciamo che oltre alle tante attività svolte in prospettiva già stiamo lavorando sull'autunno, in particolar modo a fine settembre, inizio ottobre ospiteremo un convegno nazionale organizzato insieme ad Agicom su tutto il tema delle conciliazioni telefoniche che è uno dei grandi settori di maggiore impegno del Corecom. E poi faremo gli stati generali dell'informazione, abbiamo già dato l'incarico a IRPET di fare un'indagine conoscitiva e recognitiva su tutto il sistema dell'informazione in Toscana e poi anche rispetto alle conciliazioni fra l'altro sottolineo che in questo anno sono stati restituiti oltre 800 mila euro ai cittadini alle imprese attraverso le conciliazioni, l'83% si è addivenuti a degli accordi attraverso questa fase, però vogliamo far conoscere sempre di più questo servizio che non sempre i cittadini conoscono che è un servizio gratuito che Corecom svolge, per cui sulla falsariga del Corecom Tour poi faremo anche una specie di concilia web tour in Toscana, almeno in alcune delle realtà più importanti e più significative. Siamo molto soddisfatti del lavoro che ha fatto il Corecom in questo anno, ha interpretato le esigenze che erano emerse durante la riflessione nella Quinta Commissione, specialmente sul punto del far conoscere meglio ai cittadini e alle cittadine toscane quali sono i loro diritti nel campo della comunicazione e dell'informazione e far conoscere loro che cos'è il Corecom e quanto il Comitato può essere utile a loro per far valere i loro diritti. In più è continuato il lavoro strenuo di media education con i più piccoli, con i più giovani, grazie anche alla collaborazione con l'Istituto degli Innocenti e tutto il resto del lavoro prezioso che il Corecom fa per tenere alta l'attenzione sulla responsabilità che richiede comunicare e raccontare la realtà e su tutta la gestione del contenzioso per quanto riguarda le informazioni e le telecomunicazioni. Devo dire che anche il premio ai comunicatori toscani è stata una bellissima novità che speriamo diventi una tradizione importante perché consente di presentare anche ai cittadini più giovani dei modelli in campo di mestieri nel campo dell'informazione e di modelli appunto di persone che esercitano il loro lavoro con passione, dedizione, generosità e grande senso di responsabilità rispetto alla comunicazione che è oggi una delle azioni strategiche per stare nella vita consociata. Consegnati gli attestati di partecipazione a Woman on Board Sono stati consegnati nei giorni scorsi nell'auditorium del Consiglio regionale di Palazzo del Pegaso gli attestati di partecipazione al progetto Woman on Board, promosso da Feder Manager e Manager Italia e nato per favorire l'accesso delle donne nei consigli di amministrazione di imprese pubbliche e private attraverso un percorso formativo. Soddisfazione per le manager toscane che hanno ricevuto l'attestato è stata espressa dal presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo che ha parlato di un'iniziativa molto bella che va nella direzione di ridurre la differenza di genere anche all'interno delle nostre aziende. Un'iniziativa innanzitutto molto bella che va nella direzione noi insieme alla Commissione Pari Opportunità cerchiamo di portare avanti da tempo, cioè ridurre la differenza di genere anche all'interno delle carriere nelle nostre aziende, sostenere per forzi formativi che facilitino la crescita anche delle figure femminili come manager nelle nostre aziende. Noi dobbiamo romperlo questo tetto di cristallo, c'è ancora tanto da fare e iniziative come queste vanno nella direzione giusta. Dobbiamo investire di più anche noi, abbiamo di fronte a noi la possibilità di scegliere profili professionali importanti e dobbiamo farlo anche nelle nostre strutture. Sono felice che in questi anni anche la nostra dirigenza veda tante donne di grande qualità che fanno funzionare al meglio la nostra struttura. Per la Presidente della Commissione Toscana, per le pari opportunità, Francesca Basanieri, il progetto segna un ulteriore passo avanti verso il riconoscimento del ruolo della donna in ambito manageriale. Nella giusta direzione di raccontare che esistono tante donne, tante eccellenze in Toscana che possono fare le manager e che appunto hanno fatto un percorso per diventarlo perché tutti gli indicatori nazionali e internazionali ci dicono che più donne nei posti di potere, nei CDA delle aziende, più le aziende migliorano dal punto di vista della qualità ma anche dei bilanci e della resilienza al mercato. In questo senso l'Italia è ancora indietro e dobbiamo lavorare per migliorare questa condizione. Quindi questo percorso va esattamente in questa direzione. La Presidente di Feder Manager Toscana, Melania Angotta, ha ricordato alcuni degli obiettivi del progetto ridurre il divario di genere, favorire l'inclusione e l'accesso delle donne alle posizioni di leadership all'interno di organizzazioni aziendali e nei consigli di amministrazione di imprese pubbliche e private rispettare quindi i principi ESG attraverso una buona governance, un vero e proprio percorso in ottica di sostenibilità. Le toscane che hanno ricevuto gli attestati sono 12. Quindi sono entrati e sono stati certificati. Questo proprio per dare la possibilità agli organismi pubblici e agli amministratori di poter selezionare gente veramente qualificata per seguire anche quella che è stata la direttiva europea del 27 dicembre del 2022 che diceva appunto che nelle aziende a partecipazione statale, a partecipazione pubblica e soprattutto in quelle quotate dovevano esserci dei manager che era una quota appunto di donne e soprattutto che le valutazioni, quindi la scelta venisse fatta con criteri di meritocrazia e anche di equa partecipazione donna-uomo. Le sfide dell'intelligenza artificiale Opportunità e problemi dell'intelligenza artificiale è questa la sfida che abbiamo di fronte e di cui si occupa il libro Digital Sapiens di Nicola Lattanzi e Andrea Vestrucci presentato a Palazzo del Pegaso. Insieme agli autori sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzè e l'assessore regionale all'economia e turismo Leonardo Marras. In un'epoca che ci bombarda di dati e informazioni, l'intelligenza artificiale è entrata in grande stile nelle nostre vite prefigurandosi come una sorta di propagine del nostro cervello e si legge nella scheda di presentazione del libro. Ma se le sfide che l'intelligenza artificiale ci propone sono entusiasmanti, resta forte l'incertezza di fronte a una domanda cruciale. Fino a che punto le nostre decisioni possono essere governate da uno strumento digitale? Nicola Lattanzi e Andrea Vestrucci rispondono a questo interrogativo illustrando i benefici e i pericoli insiti nell'interazione tra sapiens e intelligenza artificiale. Decidere con l'intelligenza artificiale è possibile a condizione di conoscerne il funzionamento e di sfruttarne le potenzialità. Un viaggio affascinante nella coabitazione fra intelligenza umana e artificiale, una lettura indispensabile per chi desidera prepararsi al salto evolutivo che l'intelligenza artificiale rappresenta per la nostra specie. Il libro discute di intelligenza artificiale ma ponendosi una domanda. Che cosa cambia nel nostro modo di decidere? Ovvero non le decisioni che l'intelligenza artificiale può assumere in modo autonomo qualche volta, ma come cambia il nostro modo di decidere impiegandola. Non è semplice, è complesso, ma apre prospettive e scenari molto nuovi che sono l'oggetto che indaghiamo. È interessante osservare che a tendere vivremo di un cervello bioelettronico che si integra con quello biologico che ci fa scoprire o ci sta facendo scoprire dimensioni in cui le decisioni dai sapiens non sono mai state assunte in questo modo. Questo libro si propone non tanto di essere un libro di divulgazione sull'intelligenza artificiale, ma un libro di divulgazione per fornire ai lettori e alle lettrici gli strumenti per rispondere a tre domande fondamentali della nostra contemporaneità. che cos'è l'intelligenza artificiale, che cosa sono le nostre decisioni, i nostri processi decisionali e come l'intelligenza artificiale impatta sui nostri processi decisionali, quali sono i rischi e soprattutto quali sono i rimedi a questi rischi. L'intelligenza artificiale sta segnando le vite di tutti noi e serve, come dico spesso, che la politica e le istituzioni abbiano la capacità di anticipare il futuro, di indirizzarlo e questo momento di approfondimento serve anche a capire quali sono le traiettorie da seguire, ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. L'intelligenza artificiale sta segnando le vite di ciascuno di noi. Come dico spesso, o la politica, le istituzioni hanno la capacità di anticipare il progresso, di guidarlo, di indirizzarlo, non svolgono la funzione sociale per cui sono chiamate. Allora questo momento, che è un momento di approfondimento, serve anche a definire insieme quali sono le traiettorie. L'intelligenza artificiale, come ogni innovazione tecnologica, ha opportunità e rischi. A noi il compito di saper scegliere le opportunità per creare un lavoro che sia un lavoro migliore e più sicuro. L'intelligenza artificiale segna anche la politica, la politica che avviene attraverso i social media, che sono guidati dall'intelligenza artificiale. Anche lì bisogna trovare il giusto equilibrio per velocizzare alcuni processi, ma allo stesso tempo non costruire fake news. È un contributo che ci aiuta a non avere paura, ma ad essere consapevoli di come usare al meglio le nuove tecnologie e a sapere qual è lo spazio reale di autonomia rispetto alle scelte, ha detto l'assessore regionale all'economia e turismo, Leonardo Marras. È il momento di approfondire. Mi pare che questo contributo ci aiuti ad essere consapevoli, a non avere paura, ma a ragionare su che cosa sta accadendo attorno a noi, usare in modo consapevole le nuove tecnologie e saper riconoscere qual è lo spazio reale di autonomia rispetto alle scelte. È un contributo che naturalmente in mezzo a tanta altra letteratura che in questo periodo si diffonde. E noi sappiamo anche che le nostre imprese, per esempio, sono state molto incoraggiate all'uso delle nuove tecnologie, in modo particolare l'intelligenza artificiale. Nell'ultimo bando, servizi avanzati e qualificati, oltre la metà dei progetti presentati dalle imprese toscane, erano proprio legate all'intelligenza artificiale. Quindi non c'è soltanto curiosità, c'è la consapevolezza che rendere più automatico un processo produttivo aiuta a far crescere la produttività, ma proprio perché è pieno di insidie, è bene che sia un utilizzo consapevole. Grazie a tutti.